Penso che andava a prendere, non prende il puma perché dove andava, davanti all'artistico che si doveva trovare. Facci tante le quelle scorrette che... Non viene, allora... E verrà magari più tardi. All'ora? E poi dove andasse a comprare l'abbonamento. Hai paura di capire? Beh. Come dà che si diceva per allora, dove era apposta da lui? Non mi era venuto in mente. Facciamo, e chi lo sapeva. Ok. Qua su? Che vuole chiede, non è lì. Nessuna cosa non è scantare. Non so questo, devo buttarlo lì fuori. Niente, non è la perusa. Che stanno? Non faccio pensare, che ha? Il problema è che mio padre è andato via di casa sei anni fa. Per un po' ci hanno dato dei soldi, mi sono permesso. Ho dovuto trovare il suo punto. Mi ha già pensato che non sia molto importante. tanto non importa. È un lavoro provisorio. Andrò a camminare una macchina. Oggi portare. E tu che andrò di fare il mio? E tu che andrò di fare il mio? E tu che andrò di fare il mio? È un saluto. E? Si. Certo, non rompi valle, però... Sicuramente la credi a tutti. Io invece non penso malo al futuro. Si, tu che pensi. A Padraio, a che farai il mese prossimo? Non lo so. E la settimana? Non mi interessa. E nei prossimi 5 secondi? Così. Mi imprimirò, fatemi permettere di non dire a nessuno della mia vita. Non ti preoccupare. Non mi prometto.